Sei un medico di famiglia? E hai frequentato il corso di formazione in medicina generale? Da oggi anche tu hai diritto al tuo rimborso. Sei pronto? Diamo voce ai medici di famiglia. Per gli anni di formazione lo Stato ti deve fino a 150.000 euro. Richiedi una consulenza gratuita al numero 800 122 777.